E allora resta con noi! Ciao amici! Sì, un ascensore semplice semplice che logicamente ce ne stanno i più articolati e semplice per la modalità survival. Moriremo! Moriremo! E' un ascensore carino, fatto con l'acqua. Ok, vi lasciamo al video. 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 e vi lasciamo al video. Ok, vi lasciamo al video. condividete, condividete, mettete mi piace, ciao! Ok, vi lasciamo al video. Ciao! Ok, vi lasciamo al video. Ok, vi lasciamo al video. Ok, vi lasciamo al video.